La Samp la vedo molto male oggi, eh? Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandemi. Ti ho comprato i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la paghina tutta la vita. Ah! Ma che? Niente, piove.